Il Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato l'elenco completo dei 1.200 interventi su tutto il territorio nazionale previsti nel piano annuale di edilizia scolastica. Tantissime le strutture campane coinvolte nell'iniziativa per un totale di circa 84 milioni di euro. Andiamo a vedere nel dettaglio i comuni coinvolti. In Irpinia 2 milioni e mezzo andranno a Montoro. Altri 5 milioni sono destinati ad Ariano Irpino nell'ambito del contratto di quartiere di località Martiri. Fondi anche a Teora 2,8 milioni, Rotondi 1 milione e 350 mila euro, Taurano 1 milione, Pagovalo Lauro 1,4 milioni e Forino 1 milione e mezzo. Non solo, da Roma sono arrivate le risorse anche per la realizzazione del plesso scolastico di Lauro con ben 5 milioni a disposizione. 1 milione e mezzo di euro circa anche per Candida, Santa Paolina, Volturare e Prato la Serra. A Greci sono andati invece 500 mila euro, 1 milione e 680 mila euro a Flumeri e altri 2,7 milioni a Pietra dei Fusi. Un altro milione a Friggento e quasi 1 milione e 200 mila euro è invece stato stanziato a Castelbaronia. Tante scuole finanziate anche nel Sannio. Un milione e mezzo andranno a Fragneto Monforte, San Martino Sannita, Limatola, Ponte, Torrecuso, Apollosa e Sant'Angelo a Cupolo. Stessa cifra destinata alla provincia di Benevento per l'Istituto Lucarelli del Capoluogo. Ben 4 milioni è invece la somma destinata alla ricostruzione dell'edificio Falcetti di Apice. Circa 800 mila euro sono stati inoltre stanziati per San Leucio del Sannio, Dugenta e Faicchio. Poco più di 900 mila invece andranno a Castelpagano. Inferiori per numero le strutture educative coinvolte nel Salernitano. 1 milione e 700 mila euro circa andranno a Sala Consillina mentre un milione e mezzo circa è destinato a Pollica. Oltre 3 milioni e 700 mila destinati a Polla mentre poco più di 2 milioni sono andati a Sant'Arsenio. Un altro milione è per Giffoni 6 casali.